e qui è un semplice dimostrativo nella differenza tra due tecniche una più elaborata l'altra più semplice ecco andiamo avanti ecco qui vediamo una foto presa in rete e adesso ecco adesso invece abbiamo qui l'anaglifo cioè un movimento su due sole immagini qui altra foto ancora adesso vedremo la differenza ecco qui le immagini non sono più due ma sono addirittura dieci per l'effetto lenticolare qui abbiamo un ingrandimento con lo stesso tipo di effetto e qui segue un secondo ingrandimento stesso lavoro a dieci immagini l'effetto è molto più morbido ovviamente